Campagna elettorale sempre più accesa, a meno di 15 giorni dalla chiamata alle urne, ecco che ancora una volta la decisione di ricandidare da parte di Giovanni Ivan Benussi viene presa di mira per il solo appoggio dato da Casa Pound. A farlo sono stati alcuni esponenti di associazioni apolitiche tra i quali figurerebbero anche quelli che, così come li definisce lo stesso movimento Casa Pound, sarebbero ex amici del noto architetto nonché ex sindaco di Bolzano nel 2005. Ai nostri microfoni Maurizio Pugliesighizzi, candidato di Casa Pound alle elezioni comunali di Bolzano. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.